buongiorno a tutti io sono carlotta mingardi sono redattrice di pandora rivista e oggi sono qui con il direttore giacomo bottos per introdurre presentare quelli che sono i contenuti del del nuovo numero di pandora rivista il numero 1 2022 dal titolo il mondo e la guerra in ucraina già si può immaginare un numero ricco e denso di contributi molto rilevanti inizierei chiedendo a giacomo come è nato questo numero e quali sono i temi sui quali in redazione si è ragionato e un po magari come si differenzia anche da altri sì grazie carlotta e grazie a tutti voi che ci seguite in questa serie di video che il cui intento è di dare un po un'idea di quelli che sono i temi principali alcuni degli spunti che emergono dai nuovi numeri in uscita e che usciranno in futuro ovviamente nel tempo che abbiamo a disposizione possiamo solo dare appunto una prima intuizione generale e ovviamente poi vi invitiamo ad abbonarvi alla rivista con il link che trovate in descrizione in modo da avere modo di leggere il numero in tutta la sua in tutta la sua estensione con i contributi che contiene ecco veniamo a questo numero che chiaramente diciamo affronta un tema che ci tocca a tutti che ha toccato ha sconvolto il mondo da vicino e quindi in un certo senso si è in un qualche modo imposto alla nostra attenzione siamo sentiti nella necessità di dedicare un numero questo argomento in analogia in un qualche modo con quello che avevamo fatto nel 2020 con il numero il mondo nel covi 19 e la nostra rivista nasce sicuramente per affrontare le trasformazioni di lungo periodo i processi di cambiamento che interessano le nostre società ma chiaramente nel momento in cui ci si trova di fronte a una crisi come in questo caso quella indotta appunto dalla guerra provocata dall'aggressione russa in ucraina questo insomma non può non essere oggetto di attenzione al tempo stesso però abbiamo fatto una scelta che è stata quella di non diciamo commentare a caldo gli avvenimenti quindi diciamo nelle settimane immediatamente successive allo scoppio della guerra in ucraina non abbiamo appunto immediatamente parlato degli avvenimenti ma abbiamo invece cercato di produrre un contributo un volume a distanza appunto di alcuni mesi dall'inizio delle ostilità legando anche questo in un qualche modo all'impostazione che abbiamo cercato di dare il numero il numero è un numero che cerca di interrogarsi su come gli avvenimenti in corso andranno a influire a cambiare il mondo l'ordine internazionale e i paesi coinvolti paesi coinvolti che sono naturalmente in primo luogo l'ucraina e la russia ma poi ovviamente anche tutti i principali attori dello scenario globale e da questo discende in un qualche modo anche la struttura del numero la prima sezione che contiene appunto dei contributi di Filippo Andreatta, Vittorio Emanuele Parsi e Sonia Lucarelli si intitola l'ordine internazionale in questione e si interroga proprio diciamo su come la guerra in ucraina va a inserirsi all'interno di un ordine internazionale che era già da tempo in ridefinizione alcuni contributi rievocano anche il contesto storico appunto della ridefinizione di questo ordine internazionale cercando anche di capire come in prospettiva quali possono essere gli scenari insomma come è quello che sta succedendo andrà a cambiare questo ordine internazionale. Nella seconda sezione andiamo ad approfondire aspetti più specifici legati alla crisi ucraina quindi legata diciamo alla guerra vera e propria al ruolo appunto di un attore come l'Unione Europea e anche diciamo a retroterra storico appunto di questa crisi mentre poi nella terza sezione andiamo a ricostruire diciamo il ruolo dei grandi attori globali quindi gli Stati Uniti, la Cina ma appunto anche la stessa Russia e tutto questo diciamo sia in relazione a quello che sta accadendo ma anche con uno sguardo anche di ricostruzione del retroterra storico. Ecco e a questo punto diciamo andrei diciamo Carlotta ti chiederei di provare anche un po' a partire proprio da questa prima sezione sull'ordine internazionale in cui tra l'altro tu hai curato una bellissima e ricca intervista al professor Parsi. Sì, grazie Giacomo, io penso che appunto questa prima sezione sia fondamentale anche per dare ai lettori e alle lettrici un po' un'idea dell'evoluzione dell'ordine in cui stiamo vivendo ormai da 30-40 anni ma anche prima dalla fine della seconda guerra mondiale di cercare di capire quali sono state le cesure o le evoluzioni e come è cambiato anche il ruolo di attori chiave come dicevi tu che poi vengono ripresi in modo diverso nel corso del numero e la struttura tra l'altro di cui che menzioni tu è anche estremamente importante e interessante da questo punto di vista perché noi abbiamo deciso di partire dal generale per poi focalizzarci su qualcosa e poi andare ad insistere appunto sui due attori la Russia e l'Ucraina. Io credo che i primi tre contributi che tu citavi quindi l'intervista a Filippo Andreatta, l'intervista a Vittorio Emanuele Parsi e a Sonia Locarelli in qualche modo partono dallo stesso tema e quindi dall'evoluzione dell'ordine internazionale affrontandolo da angolature diverse. Per esempio nell'intervista a Filippo Andreatta si spende comunque tempo a riprendere quello che è stata l'evoluzione del ruolo degli Stati Uniti come perno, come cardine, come leader di quest'ordine, come poi si è evoluta la loro prospettiva a livello di politica estera e quindi che conseguenze ci siano state sulla comunità internazionale, ma esce anche un tema che viene poi ripreso anche dagli altri contributi che è quello del rapporto della comunità internazionale nei confronti della guerra e dello strumento militare. E su questi temi torna anche appunto Vittorio Emanuele Parsi che riprende l'evoluzione dell'ordine internazionale liberale da una prospettiva leggermente diversa insistendo molto su quelle che sono state anche le debolezze in cui è incappato l'ordine, anche a volte proprio interne alle nostre società e quindi questo completa un po' quella che è magari invece la prospettiva storica di cui si parlava prima. E anche Parsi ritorna sulla questione della guerra, come ritorna anche la questione del nucleare che ci porterà poi a parlare anche di Nato e entrambi i primi due contributi ragionano su cosa sia stato un po' l'utilizzo dello strumento del nucleare, noi pensavamo magari di essercelo lasciati alle spalle ma è sempre in qualche modo rimasto lì e questi sono secondo me degli spunti molto interessanti che poi vengono approfonditi ulteriormente nel contributo di Sonia Lucarelli che ci dà proprio un quadro anche di quello che è stato il percorso della Nato che è tornato un attore fondamentale anche lì in controtendenza rispetto a quanto accadeva prima. Quindi questa prima sezione si spera serva proprio anche per mettere in fila delle informazioni che abbiamo ricevuto anche come cittadini nel corso degli anni ma che riesca a restituirlo in modo organico così da fornire delle chiavi di lettura. Molto interessante quello che hai detto e anche il fatto che in questa prima sezione vengono poi sollevati tutta una serie di temi che vengono poi anche ulteriormente approfonditi nel resto del numero. Penso ad esempio al tema della guerra che ha a che fare anche un po' con lo shock anche psicologico che anche come europei abbiamo sperimentato in relazione a questo fatto. Questo ad esempio è un tema che emerge nel contributo nella seconda sezione del generale Cucchi che oltre a fare una riflessione anche sugli aspetti più propriamente militari chiaramente del conflitto riflettendo anche sugli errori di valutazione fatti da Putin che appunto gli facevano sperare diciamo in un conflitto rapido e vittorioso e che invece diciamo le cose come sappiamo sono andate molto diversamente ma parte in un qualche modo questo contributo anche proprio dall'impressione che ha suscitato lo scoppio di questo conflitto per un'Europa che per tanto tempo aveva pensato alla guerra come un qualcosa di superato come uno strumento che questo è un tema che peraltro sottolinea anche Andreatta come uno strumento diciamo che fosse non più utile non più presente appunto nella soluzione delle controversie internazionali. Infatti è una questione proprio anche come si parla nei diversi contributi perché appunto abbiamo il contributo del generale Cucchi che si focalizza proprio su questa cosa e ci sono anche dei rimandi come dici tu nel contributo nell'intervista a Filippo Andreatta e anche Parsi in qualche modo riflette su questa sorta di negazione iniziale che gli europei hanno avuto di fronte alla guerra in seguito a tutto quello che veniva prima in seguito alla pandemia in seguito al rincaro dei prezzi delle materie prime quindi in una situazione di questo tipo tutti i contributi in qualche modo si parlano così come nel costatare quelle che sono stati gli errori di valutazione a livello militare è un altro tema che torna e che poi quando si vuole poi passare a quella che è in qualche modo l'analisi dell'operato dell'Unione Europea anche qui abbiamo questo tema centrale di una ricerca di complementarietà fra quella che può essere la politica estera dell'Unione Europea con tutte le sue debolezze con tutte le sue criticità a livello di governance e uno strumento come quello della Nato che è tornato come dicevamo prima prepotentemente di questo ne parla già Sonia Lucarelli che accenna anche alla questione delle sanzioni ma anche alla gestione della problematica migratoria le differenze che ci sono state rispetto all'ondata migratoria del 2015 ma ne parla Nicoletta Pirozzi nell'intervista in cui si cerca proprio di delineare quelle che sono state le buone risposte dell'Unione Europea quindi una coesione impensabile da un certo punto di vista sono alcuni mesi fa però le criticità che comunque rimangono soprattutto nel cercare di trovare un equilibrio e una posizione forte di rimodulazione di politica estera di fronte alla guerra tra l'altro su questo tema del ruolo dell'Unione Europea in un qualche modo emerge un'altra questione affrontata da diversi contributi che è quella del ruolo delle sanzioni in cui e che tra l'altro ad esempio in relazione al tema finanziario vengono affrontate nell'intervista a Lucia Quaglia e sì in generale il tema del ruolo dell'Unione Europea che effettivamente in questa crisi ha manifestato una coesione che per certi aspetti non era attesa non era attesa appunto come dicevamo nelle valutazioni dello stesso Putin e che quindi ha creato anche un elemento di spiazzamento diciamo rispetto alle aspettative precedenti è un tema molto importante chiaramente rispetto alle evoluzioni future qui rimane diciamo un'incognita quindi il tema della difesa europea qui accennavi tu del rapporto di questo tema con il ruolo della Nato e sono tutte questioni che vengono affrontate da varie prospettive in diversi contributi anche il tema del nucleare a cui accennavi tu è un tema significativo è un tema che dicono diversi autori non è mai veramente scomparso è sempre rimasto però probabilmente nella nostra consapevolezza restava sullo sfondo fino a quasi scomparire quindi anche qui questi avvenimenti ci hanno riportato una consapevolezza rispetto a tutta una serie di questioni che forse avevamo scorbato su questa cosa delle sanzioni è stato anche interessante secondo me vedere come diversi contributi sottolineavano anche una comparazione fra le sanzioni che erano state imposte nel 2014 ma si rifletteva anche sul potere o meno dello strumento delle sanzioni che è stato al centro del dibattito pubblico per un po' e poi come accade sovente comunque si è un po' perso invece cercare di riallacciare anche quello che poteva essere la differenza delle sanzioni messe in atto nei mesi scorsi rispetto proprio all'utilizzo dello strumento di per sé in politica estera è un aspetto che è stato interessante coprire questo è un punto molto importante anche come elemento di metodo che se vogliamo ha a che fare con l'approccio che proponiamo con Pandora Rivista perché spesso si tende a trattare questi temi sull'onda dell'emergenza del momento quindi magari dimenticando quelli che sono gli antefatti, gli antecedenti, tutta la storia delle cose e questo diciamo nel caso della crisi ucraina è una cosa che vale al massimo grado addirittura c'è un contributo, un'intervista a Giorgio Cella che ricostruisce la storia lunghissima diciamo dei rapporti tra questi due paesi appunto partendo da un lavoro di ricerca da lui svolto che risale ovviamente alla Rus di Kiev che mostra come in realtà diciamo la dialettica tra questi due paesi sia da ricercare nelle sue origini appunto in un tempo molto lungo e molto lontano e poi appunto c'è l'altro contributo molto importante l'intervista a Mara Morini che ci permette invece di anche qui ricostruire un po' il retroterra storico in questo caso più recente ma comunque a partire dagli anni 90 della Russia che ha visto appunto l'ascesa di Putin comprendendo anche quelle che possono essere diciamo le condizioni sociali, culturali insomma che ne hanno permesso e poi accompagnato l'ascesa. Questo appunto come si diceva in introduzione è a mio parere un apporto consistente del volume anche al dibattito perché tanto è importante focalizzarsi sul quadro generale, vedere come si è evoluto, come si muovono i diversi attori e cercare di formire delle chiavi interpretative come fanno i primi contributi di cui parlavamo prima ma altrettanto importante è cercare di dare una base, una copertura storico-politica-istituzionale invece dei due attori che sono più coinvolti al momento e che rimangono sempre magari nelle analisi osservati in funzione di qualcos'altro, in funzione del conflitto. In questo modo si tenta di riuscire a dare una visione un po' più comprensiva e soprattutto per quanto riguarda l'Ucraina se ne è parlato costantemente per mesi solo rispetto alla guerra, molto meno dal punto di vista del proprio contesto storico e politico quindi sono dei contributi fondamentali per la comprensione di tutto. Ecco speriamo appunto che questa cifra in un qualche modo che proprio tu adesso hai sottolineato cioè questa compresenza in un qualche modo di sguardo largo diciamo da lontano e al tempo stesso sguardo in primo piano sugli attori sia un po' quella che abbiamo restituito e quello che vorremmo diciamo che trasparisse insomma di questo volume di cui chiaramente come dicevamo in apertura abbiamo avuto la possibilità solo di dare alcuni accenni, di ricostruire alcune linee generali ma vi invitiamo davvero a leggere o perché insomma speriamo possa essere uno strumento utile per capire quello che sta accadendo e quello che potrà accadere in futuro. Naturalmente parliamo di eventi che sono tuttora in corso però appunto proprio per questo diciamo avere qualche elemento appunto per capire da dove veniamo per capire quali sono le linee generali di questo svolgimento può essere utile per orientarsi meglio. In conclusione io appunto vi invito se volete leggere il numero ad abbonarvi alla rivista con il link che trovate in descrizione. L'abbonamento al prezzo di 40 euro consente di ricevere tutti i numeri che vengono pubblicati nel corso di un anno e vi ringrazio per l'attenzione e vi diamo appuntamento al prossimo video di Pandora Rivista. Grazie. Grazie.